Sono stati prorogati sino al 31 dicembre 2019 10 contratti di lavoro a tempo determinato per altrettanti operatori tecnici assunti nel mese di novembre, la cui scadenza era per il 30 aprile. A renderlo noto il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. La proroga riguarda operai inizialmente assunti in funzione del piano neve. Riteniamo importante però impiegare le risorse finanziarie di cui disponiamo per procedere ad assunzioni, sia pur a tempo determinato ma con una durata più ampia, che sia in grado di incidere positivamente sull'efficienza della macchina comunale e dei servizi resi a cittadini. Quest'unità di personale infatti andranno a coprire il fabbisogno in termini manutentivi e di supporto tecnico, il che significa che lavoreranno interventi sul verde pubblico, sulle strade e sui fabbricati di proprietà del comune. Nonostante le difficoltà di bilancio, ha detto Biondi, abbiamo voluto dare maggiore respiro alla durata dei contratti, prevedendo una scadenza a dicembre 2019, operando una scelta a tutela e vantaggio dei lavoratori e delle loro famiglie.